Sono a una svolta le indagini sull'omicidio di Carlo Giannini, il pizzaiolo mesagnese di 34 anni, ucciso una settimana fa in un parco di Sheffield in Inghilterra. La Sat Yorkshire Police ha arrestato un ragazzo di 18 anni con l'accusa di omicidio. Il giovane nativo di Sheffield avrebbe ammazzato Giannini con una coltellata. Il corpo del mesagnese era stato trovato alle 5 di giovedì mattina della scorsa settimana. L'arresto è stato effettuato dalla polizia nella giornata di mercoledì 18 maggio. L'identificazione del presunto killer sarebbe avvenuta anche grazie all'acquisizione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso dalle quali sono stati ricavati anche i fotogrammi degli ultimi momenti di vita di Carlo Giannini. Queste immagini risalgono alle 11 di sera di mercoledì 11 maggio. In una nota diffusa sulle proprie pagine web, i detective della polizia inglese chiedono ancora una volta la collaborazione dei cittadini che si trovavano nel Manor Field Park di Sheffield quella sera per segnalare eventuali elementi utili alle indagini. Gli investigatori non hanno svelato né l'identità del presunto killer né il movente dell'omicidio ma hanno specificato che Giannini è stato formalmente identificato dai familiari. Il fratello Stefano e la cognata Valentina sono da qualche giorno a Sheffield e sono supportati da psicologi in questi momenti così difficili attenderanno in Inghilterra la restituzione del corpo che sarà riportato a Mesagne.